benvenuti alla voce di ulisse il podcast che vi accompagna nel caotico mondo del trasporto pubblico romano oggi ci immergeremo nei lavori di rinnovo della linea romalido sia quelli legati alla rete elettrica e scopriremo come questi impatteranno sulle nostre vite quotidiane che quelli della stazione di tor di valle che al momento è la fermata più pronta per essere inaugurata dalle nuove tempistiche agli aggiornamenti sulla modernizzazione dell'infrastruttura preparatevi ad un viaggio informativo indispensabile per i pendolari che viaggiano verso ostia iniziamo con la notizia più fresca astral ha annunciato un ulteriore slittamento dell'inizio dei lavori ma non disperate ciò significa solo una settimana in più di tranquillità prima dell'inizio delle opere a partire dal 13 maggio infatti i cantieri prenderanno via portando con sé alcune modifiche importanti per gli orari dei treni dal lunedì al venerdì preparatevi ad un ritorno all'orario ridotto fino alle ore 21 mentre durante fine settimana gli orari rimarranno immutati ma cosa comporteranno esattamente questi lavori ecco questi sono tutti i dettagli i due anni di lavorazioni preventivate prevedono la sostituzione di tutti i cavi feder e l'aggiornamento dei sistemi di sicurezza delle sottostazioni elettriche lungo la tratta un intervento necessario per garantire un viaggio più sicuro e confortevole a tutti i vassaggiatori oltre a questi siamo qui per parlarvi degli ultimi sviluppi riguardanti alla fermata di tordivano dopo anni di attesa i cantieri sono finalmente ripresi promettendo di rivoluzionare l'esperienza dei viaggiatori già dal 4 aprile l'accesso alla stazione lato via ostienza è stato chiuso costringendo i passeggeri a percorsi alternativi ma la ragione di questo disagio diventerà presto evidente in queste settimane sono stati montati i nuovi portali che sostengono la linea aerea di contatto segnando un passo avanti significativo nei lavori di riqualificazione della stazione sono operazioni delicate svolte durante l'intervallo notturno del servizio che promettono di rendere la linea aerea più performante e di conseguenza anche il viaggio del treno ma non è finita qui i cantieri di tordivalle non si fermano entro la fine dell'anno saranno installati nuovi ascensori ed una moderna pensilina a portale permettendo a tordivalle di essere una fermata più accessibile e confortevole di quanto non fosse stata finora è un momento importante per la linea romalido e noi saremmo qui per tenervi aggiornati su ogni nuovo sviluppo continuate a seguirci sulla voce di lisse per rimanere sempre informati sulle ultime novità del trasporto pubblico romano Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!